Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app, disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! In primo piano la strage di San Lorenzo del Vallo nel Cosentino nel 2011. Ebbene, ieri la Cassazione ha confermato l'ergastolo per i presunti autori. Vediamo. Sei anni fa la strage era il 16 febbraio del 2011 a San Lorenzo del Vallo nel Cosentino quando furono uccise nella loro abitazione madre e figlia Rossellina Indrieri e Barbara De Marco. Ieri la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Domenico Scarola e Francesco Salvatore Scorza, accusati dell'efferato duplice omicidio. In quella sera d'inverno, passate da poco le 8, un commando fece irruzione nell'abitazione d'armi in pugno. Esplose numerosi colpi contro le donne che cercarono di scappare rifugiandosi sul balcone. In soggiorno con loro anche il fratello di Barbara, Silas, che rimase gravemente ferito. Nella stanza da letto c'era anche il padre dei ragazzi e marito di Rossellina, Gaetano De Marco, che ubriaco non si sarebbe accorto di nulla. Gaetano De Marco morirà in un agguato pochi mesi dopo, nell'aprile del 2011, secondo gli inquirenti, a scatenare la strage di San Lorenzo, l'omicidio nel gennaio del 2011 del giovane figlio del boss Franco Presta. Il ragazzo Domenico fu freddato nel corso di una lite da un commerciante di Spezzano Albanese, Aldo De Marco, fratello di Gaetano De Marco. La testimonianza di Silas De Marco, unico sopravvissuto nella strage al centro dell'intera vicenda giudiziaria. Ieri la decisione della Suprema Corte che ha condannato definitivamente gli autori della strage. Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!